Cantagallo, allora ci siamo, sarà probabilmente Fidanza il candidato sindaco del centro-sinistra a Montesilvano? Enzo Fidanza sarà il candidato sindaco del centro-sinistra, ieri sera il tavolo della coalizione ha deliberato all'unanimità la sua candidatura con entusiasmo e con voglia di far sì che il 26 maggio sia eletto sindaco di questa città. Fidanza è un candidato giusto soprattutto per questa fase e in questo momento, è un candidato esperto, è un candidato sia dal punto di vista politico che dal punto di vista amministrativo è un candidato che fa politica da tanti anni ma è un candidato che ha vissuto pochissimo le vicende amministrative della città di Montesilvano quindi diciamo che è abbastanza nuovo un candidato che può esprimere il meglio per riqualificare, per rilanciare la città di Montesilvano soprattutto pensando ed immaginando che questa potrebbe essere l'ultima elezione amministrativa per la città di Montesilvano immaginando e pensando che la nuova Pescara è alle porte. Come si è arrivati alla scelta di Fidanza? La scelta di Fidanza è stata una scelta fatta attraverso una concertazione con il tavolo della coalizione ma è stata fatta anche e soprattutto attraverso un programma che ci ha visti uniti un programma come dicevo prima amministrativo di rilancio nell'innovazione, nella riqualificazione della città e attraverso il programma che è stato stilato il Partito Democratico all'unanimità aveva già deliberato sulla persona di Enzo Fidanza e il tavolo accettato appunto per i motivi che lei prima ha detto professionalità, grande moralità, grande conoscenza dell'attività amministrativa è stato anche assessore alla provincia di Pescara, è stato presidente del consiglio provinciale di Pescara quindi una persona che può mettere veramente a frutto la sua esperienza per ridare vigore a Montesilvano.